Io chi sono? Tu non sei altro che un'arma di distruzione. Colui che ha ucciso il sole è chiamato Luna. È tutta colpa tua! Chi sono io? Anzi, che cosa sono? Uccidi, chiascia, uccidio! Io non sono nulla, neanche di me stesso. So solo che i miei nemici mi chiamano... ...Khashan.